Amici rossoneri, amanti del calcio, un saluto da Luca Zen. Allora, li vedete questi qua? Questi qua sono i campioni d'Italia, campioni d'Italia 2022. Allora, le vicende che si stanno susseguendo, o meglio, il silenzio assordante che c'è in questo momento, si sta già facendo smettere di festeggiare, di sbeffeggiare gli avversari per questo grandissimo traguardo, questo grandissimo avvenimento che è la vittoria dello Scudetto. Siamo arrivati al 30 di giugno, manca mezz'ora alla fine del contratto di Ricky Massara e di Paolo Maldini. E ancora non si sa se rinnovano o non rinnovano. Quindi diciamo che a questo punto la figura di merda già è in essere, perché agli occhi del mondo direi che una squadra che aspetta l'ultima ora per rinnovare il contratto di due dirigenti che hanno portato nel giro di tre anni, prima la Champions League e poi a vincere lo Scudetto, li portano all'ultimo giorno per il rinnovo, veramente questa è già una figura di merda agli occhi del mondo. Ovviamente secondo me non è neanche tutta colpa della nuova proprietà, che a quanto pare non è ancora del tutto proprietaria del Mina, perché Gazzidis ancora ha la facoltà di firma e quindi sappiamo che tra Gazzidis e Maldini non c'è un gran feeling, eccetera eccetera. Però anche Maldini secondo me ci ha messo un po' del suono, nel senso che poteva almeno, visto l'ansia palpabile di uno tifosi, poteva almeno uscire allo scoperto e lasciare qualche dichiarazione. almeno dire io ho fatto una proposta, sono in attesa che la proprietà, le proprietà mi diano una risposta oppure ragazzi alle condizioni della nuova proprietà non me la sento di continuare perché non ho garanzie sul fatto che continuiamo ad essere una società vincente, qualsiasi cosa, ma almeno dire come stanno le cose, anche perché già Renato Sanchez se n'è andato, questa è la cosa che mi ha fatto più girare le palle perché era forse, anzi senza forse il giocatore che a noi serviva di più visto la partenza di che sì, e Renato Sanchez se n'è andato per colpa a mio avviso di questa situazione qua, perché è un giocatore che va in una squadra dove non si sa neanche chi saranno i prossimi dirigenti, di area tecnica e non, se uno dice ma dove cazzo vado, me ne vado al Paris Saint Germain che magari mi danno anche qualche milioncino in più, la situazione là è stabile, al di là forse del cambiamento dell'allenatore, ma vabbè, piuttosto che andare in un club come il Milan che a mezz'ora dallo scadere del contratto dei suoi dirigenti che hanno portato a vincere lo Scudetto non si sa ancora se rimangono, non rimangono, non si sa niente, quindi abbiamo già perso Renato Sanchez e Botman, credo l'80% anche per queste situazioni societarie che non sono chiarissime. E quindi ho paura dirlo ma siamo in una situazione veramente, come dire, di stallo e di insicurezza e mi fa preoccupare e tutta questa preoccupazione, come ho detto all'inizio del video, ci fa un po' dimenticare, solo un po', il fatto che siamo campioni d'Italia e dobbiamo ovviamente difendere questo titolo, dobbiamo difendere questo titolo, ci vogliono giocatori forti, rinforzi, non ci vogliono solo le conferme di quelli che già hanno partecipato allo scorso campionato, ma almeno quattro giocatori di livello dovremmo riuscire a portare a casa, ma finché non si sa chi si mette all'opera per gestire questo mercato, chiaramente è tutto fermo, è tutto fermo. Gli altri squadri si rinforzano, l'Inter ha già preso Lukaku, Mkhitaryan e qualcun altro che adesso non mi viene in mente, la Juve di Maria, il ritorno di Pogba, insomma gli altri squadri si stanno muovendo, per cui noi siamo rimasti e rimarremo un po' al palo. Io spero che mentre, visto che manca poco, sono ormai le 8-20, tra 20 minuti scade il contatto di Ricchi Massara e di Paolo Maldini, spero che magari nel frattempo ci siano novità, anche se, lo ripeto, anche se ci sono delle novità, cioè è tardi, è tardi, non si può all'ultimo momento firmare i nuovi dirigenti, cioè rinnovare il contatto dei dirigenti e da lì cominciare, cioè dovevano già stare in tranquillità un mesetto fa, 15 giorni fa, 20 giorni fa, in modo che potevano sia cercare i giocatori, essere al cosciente, cioè al cosciente, essere coscienti di quello che potevano fare nell'acquisizione di nuovi giocatori. E quindi, niente, per riassumere, sì, una situazione di stallo è anche una figura di merda in generale, perché stanno facendo di tutto per farci dimenticare questo diciannovesimo scudetto che ci ha fatto gioire dopo 11 anni. Ma noi milanisti non possiamo avere un filo conduttore unico che ci fa stare tranquilli e beati, ma dobbiamo sempre rodere un po', dobbiamo sempre farci venire un po' di tiraculo. Figuratevi che io non volevo neanche fare questo video, perché ho detto, vabbè, ormai, visto che non sono stato molto costante con i video, riparto quando ci sarà la nuova Rosa al completo, quando si sarà delineata la nuova squadra, che sarà sicuramente, grazie a Maldini e a Massara, una buona squadra, ovviamente rinforzata, ma l'ho dovuto fare per forza questo video, perché c'erano tutte queste cose che io mi sentivo di dover condividere con voi, anzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché a questo punto se ne sentono tante dire sul Milan che non ci capisco più niente. Ecco, la cosa che mi fa incazzare quando sento trasmissioni sportive o youtuber che se ne intendono magari, anzi, senza magari, se ne intendono più di me di calcio, mi fanno incazzare quando dicono, ah ecco, adesso c'è Diallo al posto di quello, forse prendiamo Raspadori, forse prendiamo... ma che cazzo può... cioè, chi è che tira fuori queste notizie della minchia se non ci sono ancora i dirigenti che vanno in giro a sondare il terreno? Cioè, da dove può saltare fuori una notizia del genere se non c'è nessuno che fa il mercato? Cioè, è il giornalista, diciamo, ma secondo me il Milan potrebbe anziché Pinco Pallino prendere, che ne so, Tizio e Caio. Non vuol dire un cazzo, perché anche io posso dire, ah beh, siccome non riusciamo a prendere Renato Sanchez, il Milan si butterà sicuramente su Di Bala. Ma è una cosa che dico io, cioè, non ha nessun tipo di fondamento, quindi probabilmente gli manca un trafiletto da riempire a questi cazzo di giornalai e lo sparano cazzate a manetta, perché se no, come le fanno le trasmissioni? Non so, fatemi sapere voi se sto dicendo delle cazzate, perché secondo me se viene fuori una notizia di un nuovo probabile interesse del Milan per un giocatore, ma non c'è nessuno di fatto che può interessarsi, cioè io non penso che va Gazzidis da solo o Cardinale da solo a dire, a parlare con, perché non ci capisce un cazzo di calcio, a parlare con una proprietà dicendo, guarda, mi interessa Diallo, mi interessa Raspadori, cioè se non ci sono Maldini e Massara che ancora non si sa cosa hanno combinato, non possono esserci nuove notizie di mercato, per cui secondo me è tutta una fuffa, una fuffa mediatica che non porta da nessuna parte e mi fa solo incazzare sinceramente, questo è quello che penso. A meno che, e anche ovviamente stranamente, non sia già tutto stabilito, non sia già tutto firmato e quindi allora potrebbe avere più senso, ma da lì l'altra domanda è, perché non dirlo se c'è già una situazione conclamata? Bah, vabbè, comunque siamo nel dubbio più totale, quasi un po' esasperati, perché anche l'idea di, visto quello che hanno fatto, l'idea di perdere sia Maldini che Massara, insomma un po' mi inquieto, anche perché non so chi potrebbe sostituirli e fare bene come hanno fatto loro. Quindi sono un po' amareggiato, un po' amareggiato ma fiducioso, anche se queste figure di merda avrei preferito evitarle. Ricordiamoci sempre, ragazzi, che siamo i campioni d'Italia, per il momento la cosa che ci deve far gioire è questa, e per adesso il video, ecco siamo anche caduti, per adesso il video lo chiudiamo qui, e alla prossima ragazzi, in ogni caso, forza mila! Grazie a tutti!